Ben trovati amici di Parepio TV a questo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Nei nostri studi l'avvocato Giuseppe Placentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute. Apriamo uno spazio dedicato alla disabilità. Bentrovato avvocato. Grazie dell'invito. Disabilità è la figura del garante. Ecco, come si coniugano le due cose? Si coniugano in una maniera molto significativa. Oggi è l'occasione di parlare proprio di un appuntamento e nello stesso tempo dei compiti e delle funzioni del garante regionale pugliese della disabilità. Il dottor Giuseppe Tulipani, Pino Tulipani, che io conosco personalmente e che gode della mia stima, si sta impegnando nella regione Puglia. È vero che Padre Pio TV o Radio Padre Pio è una emittente nazionale, però dobbiamo parlare di questa figura della regione Puglia perché questo signore si sta impegnando e speriamo che gli altri garanti delle altre regioni facciano lo stesso e si impegnino come lui per la tutela del benessere dei disabili. Il 18 aprile del 2018 è una data importante per la Puglia perché è stato incaricato dal Consiglio regionale proprio il dottor Giuseppe Tulipani. Accanto al garante dei minori e al garante dei carcerati, quindi delle persone che sono astrette per misure interdittive carcerarie, abbiamo la figura del garante regionale delle persone con disabilità. Vorrei ricordare ai telespettatori l'importante ruolo di questa funzione di garanzia, ma anche perché questo signore e il suo ufficio all'interno, in seno alla regione, può essere un punto di riferimento per le nostre richieste, richieste per le nostre lamentele, per i nostri esposti. C'è un'email garante disabili chiocciolaconsiglio.puglia.it a cui uno si può rivolgere per mandare delle e-mail anche di lamentela. E c'è un numero che adesso andrò a ripetere, lo 080 54 021 73. Ripeto, questo è il numero del garante pugliese della disabilità. 080 54 021 73. E' importante il ruolo del garante, perché è un pungolo nei confronti delle istituzioni politiche che amministrano non solo le regioni ma anche le province, può essere tranquillamente chiamato, è molto disponibile anche tramite i social network, quindi anche tramite Facebook, quindi potete mandare un'email anche a lui e lui vi risponderà con molta gentilezza e cortesia. Però una nota devo assolutamente evidenziare. In Italia ci sono, secondo le fonti Istat, 3 milioni e 100 mila persone che hanno una grave disabilità, con oltre 15 anni e su 60 milioni di italiani, vedete che 3 milioni e 100 mila è una cifra enorme, di questi ben un miliardo, un milione e 100 mila sono le persone che sono disabili ma che non percepiscono l'indenità di accompagnamento, mentre 2 milioni di persone percepiscono l'indenità di accompagnamento. Quindi, ripeto, noi stiamo parlando di 3 milioni e 100 mila persone con disabilità grave. Se dovessimo calcolare anche le persone che hanno una minima disabilità, quindi anche le persone che hanno meno di 15 anni, per esempio, supereremmo i 5 milioni. Quindi il problema della disabilità è un problema importante per una nazione voluta e che deve essere, come dire, un dossier, usiamo questo termine, dell'agenda di governo. La tutela dei disabili attraverso la promozione dell'informazione sanitaria e dell'informazione relativa ai diritti delle persone con disabilità. Per questo motivo, il 31 gennaio del 2020, a Manfredonia, qui vicino, ci sarà un workshop dedicato alla programmazione dei progetti del Garante dei disabili. È un progetto, quello del Garante, che è rivolto alle associazioni ma anche alle famiglie. Quindi siete invitati il 31 gennaio, nel pomeriggio, presso Palazzo dei Celestini a Manfredonia, sarà presente anche il Vescovo Monsignor Franco Moscone e altre componenti politiche. Si parlerà del ruolo del Garante per tentare di creare una rete, un network, usiamo questo termine, all'interno della regione Puglia. E speriamo che il lavoro del Garante Pino Tulipani poi venga anche imitato dalle altre regioni. Lo scopo, anche consigliato da Difesa Salute, quindi dal sottoscritto, è quello di creare, nelle città più importanti, uno sportello della disabilità permanente. O attraverso la figura del Garante Comunale, quindi ogni comune dovrebbe avere questa figura, a mio parere, della disabilità, oppure uno sportello in ogni comune dedicato ai disabili. Perché solo in questa maniera si può garantire capillarmente il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. E un'altra notazione, e concludo il mio intervento sul ruolo del disabile, abbiamo detto prima che siamo così tanti disabili, ma non bisogna essere egoisti. Quando vi rivolgete a Difesa Salute, mandando un'e-mail a infochiocciola Difesa Salute, oppure al Garante, noi tentiamo di risolvere anche il caso singolo, il caso pratico. Però bisogna tenere presente che non è facile, e il ruolo è quello di risolvere i problemi macroeconomici, quindi i problemi che riguardano un po' tutti i disabili, quale può essere le liste di attesa, oppure l'accesso all'assegno di cura, o le altre provvidenze economiche. Questo non vuol dire che non potete rivolgervi al Garante o all'Associazione di Difesa Salute, oppure a Teleradio Padre Pio, per un vostro singolo problema. Anzi, io vi invito a mandare un'e-mail, a segnalarci questo, però tenete presente che non tutti i casi possono essere risolti, perché siamo umani e spesso la burocrazia, usiamo il termine sanitaria, può avere ragione. Noi ce la mettiamo tutti e Pino Tulipani è un esempio di impegno in questa direzione. Passiamo dalla disabilità ad aspetti più pratici appunto legati all'attività di Difesa Salute come associazione di tutela legale. Allora, quando riguarda un caso importante, perché Difesa Salute non si occupa solo di diritto sanitario, ma anche di altro. Alla nostra attenzione è giunto un caso di un signore che ha emesso un assegno postale non autorizzato. Quindi, oggi parliamo degli assegni. Gli assegni come mezzo di pagamento, possono essere postali o bancari, per esempio anche assegni circolari, vengono utilizzati frequentemente. Ricordatevi che prima della legge 386 del 1990, emettere un assegno senza provvista, ossia senza avere i fondi necessari, senza avere un conto, oppure un assegno senza autorizzazione, immaginiamo un soggetto a cui è stata revocata l'autorizzazione di emettere assegni come sanzione, in quel caso, prima del 1990, era un reato, quindi le procure all'epoca erano intasate di procedimenti penali per questa ragione. Dal 1990 il legislatore intervenuto ha depenalizzato l'emissione di assegno senza provvista o senza autorizzazione. Però, state attenti, non utilizzate con facilità degli assegni quando non ne avete diritto, quando non avete i fondi necessari. Sempre questa legge, la 386 del 1990, ha previsto, con l'articolo 8, una disciplina di favore, il cosiddetto pagamento tardivo. Facciamo un'ipotesi. C'è un conto in banca, noi pensiamo di avere la copertura, la provvista, e emettiamo un assegno che supera la provvista. Quindi, caso di assegno senza provvista. In quel caso, quando viene protestato l'assegno, ricordatevi che avete un tempo per sanare il vostro illecito amministrativo, pagando una piccola penale, le spese e la sorte. Cioè, quanto era l'assegno? Facendovi rilasciare una quietanza liberatoria, quindi una dichiarazione di notorietà in cui il soggetto, che era accreditore, dichiara di essere stato totalmente soddisfatto. In questa maniera, a esenzio dell'articolo 8 della legge 386 del 1990, con questo pagamento tardivo, voi avrete la garanzia di non subire nessuna sanzione amministrativa. Viceversa, il caso che è stato posto all'attenzione dell'Associazione Difesa Salute riguarda l'emissione di un assegno senza autorizzazione. Cioè, questo soggetto ha trovato un blocchetto di assegni e furbescamente, questa è la nostra ipotesi, ha pensato di rilasciare, con quel blocchetto che non era il suo, una forma di pagamento ad un fornitore. In quel caso, la Prefettura, a distanza di un po' di anni, gli ha mandato una ordinanza prefettizia sanzionatoria prevedendo una multa di 1032 euro più 12 euro di spese di notifica. L'assegno era di 260 euro, quindi una somma piccola. Ebbene, a fronte di quella piccola somma, anche il pagamento tardivo, a esenzio dell'articolo 8, non è valido. E in effetti, come stavo a poc'anzi dicendo, questa ordinanza, l'ordinanza prefettizia che ho qui di fronte, che cosa ha enucleato? La dichiarazione resa non è prevista quale condizione di improcedibilità con riferimento agli assegni emessi senza autorizzazione, essendo ammesso dall'articolo 8 della legge 386 del 90 esclusivamente per gli assegni senza provvista. Quindi, in ultima analisi, se emettete un assegno senza autorizzazione, dovete stare ancora più attenti, perché non potete sanare il vostro errore. E le sanzioni sono sanzioni salate. Io ho qui proprio un elenco di sanzioni. Se l'importo dell'assegno è inferiore ai 5.165 euro, la sanzione è di 1.032 euro. Se l'importo dell'assegno supera i 5.165 euro e 0,1 centesimi, l'importo della sanzione è 2.065 euro. Ecco come lievita. E addirittura, se l'importo dell'assegno è oltre i 51.645 euro, la sanzione è, badate bene, 12.395 euro. Quindi c'è una griglia di sanzioni che applica la prefettura competente. Quindi massima attenzione non solo nell'emissione di assegni senza provvista, ma ancora di più nell'emissione di assegni senza autorizzazione. Bene Avvocato, ringraziamo Giuseppe Pracentino per averci dato l'opportunità anche questa settimana di soffermarci su alcune tematiche. Torneremo ancora insieme la settimana prossima con l'Associazione Difesa Salute per altri casi. Intanto la prima parte di Chiede a Noi termina qui. Torneremo nella seconda con il dottor Massimiliano Casto e Fisco Economia e Famiglia. Carissimi amici di Telepadre Bio, bentornati all'appuntamento con l'economia e con il fisco. Questa settimana voglio tornare a parlarvi di tasse sulla casa. Tantissimi nostri amici da casa ci hanno chiesto informazioni e rilucidazione su questi argomenti perché ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Torniamo volentieri su determinati aspetti che riguardano la tassazione del bene più importante per gli italiani e quindi la casa. in realtà quando parliamo di imposte e di tasse sono sempre argomenti molto spinosi, molto pungenti ma sicuramente quando queste tasse toccano appunto il bene primario più importante per i contribuenti italiani allora vedete che questo argomento sicuramente diventa molto più pungente. Sapete che le tasse sulla casa in realtà quelle più importanti sono tre l'Imo, la Tasi e la Tari la famosa tassa sui rifiuti. L'Imo sapete che è quella tassa che è subentrata successivamente all'abrogazione della vecchia ICI in posta comunale sui immobili e appunto l'Imo riguarda la proprietà della casa in realtà la seconda casa perché già da qualche anno come sapete la tassazione ai fini dell'Imo per quanto riguarda l'abitazione principale dei nuclei familiari quindi dove risiede il nucleo familiare è stato tolto quindi non c'è più l'obbligo per il riflessamento della prima casa appunto sia per quanto riguarda l'Imo quindi la tassa sulla proprietà di questi immobili a prescindere dal fatto che sia censita in determinati comunque categorie catastali perché sappiamo che per quegli immobili che sono catastali con la categoria A1 A8 A9 quindi parliamo di beni molto di un certo valore da un punto di vista architettonico e ambientale quindi sono degli immobili di russo e quindi anche se c'è la residenza del nuovo familiare quindi è un'abitazione principale quindi quando sono censiti nella categoria catastale A1 A8 A9 allora purtroppo anche in questi casi c'è l'obbligo del pagamento del Limo come prima casa per quanto riguarda un'altra tassa molto importante che è entrata in vigore più recentemente rispetto al Limo è la famosa TASI la tassa sui servizi indivisibili ricorderete fu messa in vigore dal governo Monti per una emergenza dal punto di vista fiscale tributario e questa tassa andava a coprire anzi lo fa tutt'oggi la copertura finanziaria per quanto riguarda beni che vengono erogati dai beni anche servizi che vengono erogati dai singoli comuni infatti la TASI riguarda appunto che i servizi indivisibili quindi riguardano tutti i cittadini del comune di residenza dove c'è l'immobile per cui dobbiamo pagare questi servizi indivisibili potrebbero essere la manutenzione delle strade il servizio di ordine che fa la polizia municipale il servizio di illuminazione pubblica quindi appunto servizi indivisibili che in pratica sono uguali per tutti i cittadini questa tassa rispetto al Limo sicuramente è però nunca inferiore alla fine della ligota contributiva e va pagata in alcuni casi anche dagli inquilini c'è un calcolo particolare quindi va come scavenza sempre rispettata quella che riguarda anche Limo quindi 16 di giugno per quanto riguarda la prima rata in acconto 16 di dicembre quando c'è il saldo oppure il compaglio definitivo per la tassazione dell'anno in corso sia per quanto riguarda Limo che per quanto riguarda la TASI le ligote appunto essendo delle tasse di natura comunale vanno determinate sono stabilite dal singolo consiglio comunale quindi determina l'aliquota contributiva che bisogna pagare partendo dalla base imponibile quindi dal valore catastale dell'immobile per quanto riguarda sia l'Ivo che la TASI abbiamo detto che la scadenza è uguale per tutta Italia anche se per quanto riguarda la regolamentazione quindi dei casi di esonoro questi invece variano dal singolo comune perché appunto è il consiglio comunale che può disciplinare può regolamentare e quindi può anche fissare dei casi di esonoro di determinate categorie e in determinate condizioni quindi per quanto riguarda questi aspetti è sempre bene consultare il sito internet del comune per cui dobbiamo pagare sia Limo che la TASI ma possiamo fare anche una semplice telefonata all'ufficio tributi appunto del comune per cui è soggetto il pagamento sia alla fine del Limo che anche per quanto riguarda la TASI terza altra importante tassa sulla casa e tra l'altro probabilmente la più odiata è la famosa TALI la tassa sui rifiuti e la tassa sui rifiuti appunto riguarda la tassazione per quanto riguarda il conferimento di tutti i rifiuti soli urbani al servizio di raccolta che viene appunto erogato dal singolo comune il presupposto per quanto riguarda il pagamento della tassa di rifiuti e il possesso ma anche la detenzione di un singolo immobile perché ovviamente sapete che deve essere pagata dal proprietario ma ovviamente deve essere pagata anche dal linguadino che appunto abita in un determinato immobile quindi chiunque detenga qualsiasi titolo dei fabbricati è soggetto al pagamento di questa famosa tassa sui rifiuti per quanto riguarda una suddivisione molto importante c'è la tari quindi la tassa sui rifiuti sulle utenze domestiche e ci sono anche le utenze non domestiche naturalmente già la stessa denominazione fa intuire di cosa stiamo parlando le utenze domestiche sono tutte le abitazioni per cui sono soggette al pagamento della tassa di rifiuti ma tutte le utenze non domestiche quindi parliamo di attività commerciali attività artigianali ma anche attività su cui viene svolto una sorta di attività industriale sono soggette al pagamento della tassa di rifiuti ovviamente la rigura che viene imposta anche in questo caso dal sicuro comune varia a seconda se l'abitazione o l'immobile viene destinato ad abitazione di persone e ovviamente la rigura è maggiore quando si riguarda quando si tratta di utenze non domestiche quindi quando parliamo appunto di attività artigianali oppure attività di possessori di attività commerciali quindi per quanto riguarda l'imposizione abbiamo detto che anche in questi casi gli inquilini come la Tasi sono soggetti anche al pagamento ovviamente perché detengono questo immobile per cui c'è l'obbligo del pagamento della tassa di rifiuti volevo aprire una parentesi perché visto che comunque si tratta di una tassa comunale anche in questo caso il comune può determinare può regolamentare a sé la disciplina soprattutto per quanto riguarda i casi di esonero o comunque di riduzione di imposta in linea generale vediamo adesso quali sono comunque le categorie che sono state contemplate nella legge istitutiva appunto la 446 del 97 quali sono le categorie che sono soggette ad una riduzione o quantomeno ad una esenzione di tassa sui rifiuti per prima cosa le abitazioni con un unico occupante quindi mi riferisco a quei nuclei familiari che sono composti da una sola persona quindi probabilmente la categoria a cui vi riferisco quella più importante sono gli anziani che magari vivono da soli ecco sappiate che queste categorie di persone hanno quasi sempre in tutti i comuni italiani diritto ad una riduzione della tassa rifiuti che molto spesso può arrivare anche al 50% della tassa rifiuti ordinare quindi le abitazioni con un unico occupante poi è un'altra categoria di immobili che sono comunque soggette a una riduzione dell'imposta e quindi che è prevista dalla legge 446 del 97 sono tutte le abitazioni che sono tenute a disposizione quindi che non sono abitate ordinariamente o quelle abitazioni che sono destinate ad una abitazione stagionale o comunque limitata nel tempo quindi quando parliamo della seconda casa magari la casa di veleggiatura la casa al mare la casa in montagna quindi capite che si tratta di un'abitazione da cui il nucleo familiare ne è un suffice soltanto in un periodo limitato nel tempo limitato durante i mesi dell'anno allora per questi immobili è prevista una riduzione che può addirittura arrivare in certi comuni italiani al 33% quindi anche in questi casi quando il contribuente possiede una seconda casa che comunque non è locata ma è destinata a milleggiatura del proprio nucleo familiare allora ha diritto ad una riduzione quindi anche in questo caso è importante verificare al comune quant'è la liquida perché questa liquida può variare sulla riduzione da comune a comune poi tutti quei soggetti che magari hanno spostato per motivi di lavoro motivi di studio la residenza all'estero anche in questi casi si hanno mantenuto un immobile in Italia quindi magari ritornano in questo immobile soltanto in un piccolo periodo durante l'anno allora anche questi cittadini italiani che sono residenti all'estero hanno diritto anche in questi casi ad una riduzione dell'imposta poi tutti quei fabbricati rurali quindi censiti da vista rurale dal catastro ma comunque sono destinati ad un uso abitativo allora alcuni comuni italiani anche in questi casi hanno previsto una riduzione dell'imposta ecco queste linee generali sono quattro tipologie di immobili per cui ordinariamente c'è una riduzione dell'imposta però ribadiamo il fatto che varia da comune a comune quindi è importante che il contribuente prima di effettuare il versamento si informi presso l'ufficio tributi per accettarsi dell'eventuale aliquota di riduzione o addirittura di esenzione totale dell'imposta poi una cosa molto importante un ultimo aspetto che volevo chiedere riguarda la famosa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti questo perché magari durante l'anno magari c'è stata un'apparizione di indirizzo oppure c'è stata una riduzione dei metri quadrati dell'immobile oppure abbiamo per esempio allargato la metratura c'è stato comunque a seguito di opere edilizie una variazione della metratura quindi della casa oppure addirittura magari ha cresciuto il numero dei componenti del numero familiare o è diminuito ecco questi sono fattori molto importanti che vanno comunicati al comune attraverso una famosa ed importante dichiarazione a fine del Natale il modulo è presente sempre nel sito istituzionale del comune di riferimento quindi è facile poterlo scaricare ed inviare sempre tramite mail oppure spedirlo tramite raccomandata perché sono comunque degli elementi molto importanti soprattutto per quanto riguarda gli elementi che convocono il numero familiare una cosa molto importante per quanto riguarda la tassazione e che ci viene sempre ricordato dall'osservatorio del mercato immobiliare e appunto riguardante la metratura di immobili perché sapete che questo è un aspetto molto importante molto combattuto tra l'ufficio tributi e molto spesso i contribuenti c'è una sorta di disputa quasi quotidiana tra queste due categorie contrapposte perché quello che invece ci indica l'osservatorio in questi casi per la presunzione del pagamento della tassa rifiuti è che la superficie catastale per cui dobbiamo pagare questa tassa rifiuti è quella calpestabile al filo muro interno cioè quella effettivamente che dobbiamo calpestare dicevo c'è una sorta di contrapposizione tra il comune e sempre i cittadini perché molto spesso i dati di cui sono in possesso il comune non sono i dati effettivi quindi la metratura soprattutto non è quella effettiva che il contribuente appunto dal testa per cui ovviamente deve pagare perché magari i dati di cui è in possesso il comune sono i dati catastali e molto spesso i dati catastali che sono adesionibili da una visura non sono quelli effettivamente calpestabili bene per oggi è tutto io volevo ricordare di scrivere di porre i vostri questi noi saremmo felici di rispondere a tutti grazie e la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti